Ciao a tutti, sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia e questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare e che quando capita bisogna ammettere e se possibile rimediare all'errore fatto e farne tesoro. E questo è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto. Devolverò un milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cuore dei bambini. Ma non basta. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro separando completamente qualsiasi attività di beneficenza che ho sempre fatto e che continuerò a fare dalle attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, si possono generare degli equivoci. Come ho già detto nei giorni scorsi, impugnerò il provvedimento della GCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. Il mio errore, in buona fede, è stato legare con la comunicazione un'attività commerciale a una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Ma se la sanzione dovesse essere, come io spero, inferiore a quella decisa dalla GCM, la differenza verrà aggiunta al milione di euro. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da medonata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti. Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo. Grazie mille. Grazie mille.